Allora questa è un'occasione abbastanza straordinaria, io sono contentissima di averti qui di nuovo dopo tanti anni e guarda che c'è un certo signor Fasol che a quella mostra lì comprò due tue quadri. La cosa che però devo dire che è bello è di rivedere perché alcuni dei quadri che sono in questa mostra erano effettivamente proprio in quella mostra lì, quindi è bellissimo rivederli dopo tanto tempo e non hanno perso nulla. Ma questo è un aspetto che per l'autore è molto importante, rivedere un vecchio quadro è pericolosissimo perché secondo me la regola principale dell'arte è che i quadri belli diventano sempre più belli ma quelli brutti diventano sempre più brutti, quindi il terrore di vedere un quadro che si è invecchiato male e ti tradisca in qualche modo. Devo dire che mi pare che perlomeno si è conservato molto bene e non è una cosa secondaria quella di fare le cose bene che durino nel tempo. Ma forse perché tu le hai fatte bene e lei le senti bene anche se. Madonna, siamo uno meglio dell'altro, uno meglio dell'altro. Io sono molto contento, mi sembra un'occasione straordinaria e poi è molto bello rivedere queste cose in uno spazio così diverso da quello iniziale e tutto è molto cambiato, anche il modo di allestire, il modo di mettere le opere. Mi sembra un'occasione, ti ringrazio. Tra l'altro il catalogo che accompagnava quella mostra mi è stato richiesto, non la voglio esagerare, ma non dico centinaia di volte, ma veramente decine di volte. Ma io penso che io ne ho tre copie, tre. Io anche il testo di Maurizio Fagiolo era abbastanza importante, la mostra era significativa. Il titolo era importante, io non rappresento nulla, io dipingo, capito? Tutto di seguito. Molto 78, non 78, anni 70, stavo dicendo 68, no, in realtà è proprio… Ci devono essere qualche ragione se dopo tanto tempo ancora quei quadri sono i più richiesti, peraltro. Sì, sì, è certo, è certo. Folicizzati, come si diceva. Ecco, ti ringrazio. Prego, un bacio. Sì, 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 sì.